Ciao a tutti, è Ernesto 2.0, siamo partiti in direzione Raduno Arca Super America, arriviamo! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Siamo finalmente arrivati, adesso faremo un tour a vedere tutti i vari modelli, partendo dal nostro, ecco qui, lui è Ernesto ed è un Super America 640. Adesso andiamo a vedere i fratelli di Ernesto. Grazie per la visione! Ciao! Ciao! L'Arena dei Super America! Senza salsa verde lo vuole! Non c'è la signora qua? No, 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 io sto facendo, sto tenendo il pane in buono! Adesso l'altro magari fai con la salsa verde, con la salsa verde, con la salsa verde, con la salsa verde. Salsa verde è prezzemolo e aglio. Ok! 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 Buona giornata! Buona giornata! Buon pranzo a tutti gli amici del Super America Sam! cin cin ai camperisti a tutti i camperisti cin cin ragazzi allora pasta piccata chi la vuole ancora? pasta l'arrabbiata, tortelli tortelli c'è di tutto qua ragazzi c'è di tutto, formaggio speciale questo come si chiama? bella gioia che non me lo ricordo ok panina con lampredotto questo è il nostro capo eccolo qua il nostro Massimo è il boss è buono, è buono va benissimo, bravo amore, mangia è pronto l'altro boss l'abbiamo qui questo è il boss che fa tutto il camper da nuovo, da solo è bravissimo, aiuta tutti è bravo, hai ragione buon appetito anche a te evviva e qua ci siamo tutti voilà abbiamo anche il comandante di bordo sono del gamasco montanaro guau, guardatevi che piscinetta guardatevi che piscina 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 ecco voi guardate che spettacolo loro tempo position gli scivoli che adesso andremo a fare io e Tommy dite che regge uno scivolo con me Tommy tu cosa dici regge lo scivolo regge dimmi non è detto per me vero teia cosa dici regge lo scivolo al fuoco andiamo a visitare un po' qui le cose porno guarda solo come gocciola quella marmellata di cipolle adesso taglia ancora un po' di formaggino lì eh è certo che non puoi registrare il profumo dei peperoni non si può registrare il profumo dei peperoni dovete inventare il braccio che registra anche il profumo dei peperoni che c***o oh le costatone costaccia la mine all'ostigiane gnocco fritto si magna e si beve guarda solo Grazie a tutti. Grazie a tutti.